con il numero 57 Marco Sportiello con il numero 22 Davide Zappacosta con il numero 2 Guglielmo Stendardo con il numero 29 Johan Penaloan con il numero 93 Bucari Dramé con il numero 17 Carlos Carmona con il numero 21 Luca Cigarini con il numero 11 Maximiliano Morales con il numero 99 Yadom Richmon Boacin con il numero 19 German Gustavo Dennis il nostro mister Stefano Colanton con il numero 21 Grazie a tutti.